Vincent Sesped è un filosofo, scrittore e commediografo francese. Malgrado abbia solo 36 anni, in Francia è notissimo ed è direttore della collana filosofica della casa editrice Larousse. Tanti i libri che Sesped ha scritto, tutti i volumi che sono diventati best-seller e che invitano a riflettere su vari temi, dai pregiudizi razziali all'amore, dalla politica alla crisi sociale. Il filosofo è arrivato anche in Riviera, a San Benedetto, per presentare nei locali del barcode di Via Mentana il suo ultimo volume, Melange en nous, che tradotto sarebbe mescoliamoci, nel senso di aprirsi agli altri, di scambiare esperienze, emozioni e vita con chi ci sta vicino, in una continua interazione. Il melange o mescolanza è una nuova concezione dei rapporti umani, è una sorta di trasmissione di energia da un individuo all'altro, in modo tale da scambiarsi una piccola porzione di identità. Un'identità che quindi diventa plurale, fluida, opposta a quella stabile e fissa. Con questa mescolanza io sono una molteplicità di altri. Una filosofia che in Francia sta piacendo, che si sta facendo largo fra i giovani e che si oppone ad una società che ci vuole chiusi e vuoti, tutti quanti amici virtuali, ma in realtà poco abbezzi a conoscere gli altri e il loro mondo.